Ben ritrovati, oggi siamo in compagnia di Ilaria Capponi della cooperativa Lella 2001 per parlare di una serie di attività gratuite rivolte ai ragazzi dai 16 ai 35 anni finanziati dalla Regione Marche che riguardano l'intervento Decido Liberamente. Di che cosa si tratta in particolare Ilaria? Il progetto si chiama You Feel Lab e il capofila di questo progetto è l'Ambito Territoriale e Sociale 22 in partenariato con altre sei enti del terzo settore, quindi cooperative ed associazioni del nostro territorio. L'obiettivo del progetto è proprio quello di sostenere i giovani talenti e combattere la devianza giovanile. Questo viene fatto attraverso tre attività diverse, quindi tre aree differenti tra di loro. L'area lavorativa, quindi dell'orientamento al lavoro, l'area emotivo-relazionale e l'area della creatività. Queste, per entrare maggiormente nel dettaglio, possiamo dire che l'area lavorativa viene trattata soprattutto dall'Associazione Spazio Informazione e dalla Cooperativa Sociale Lella 2001. Si occuperanno di redigere bilanci di competenze, curriculum vite, faranno dei veri e propri check-up di carriera, quindi anche riqualificare le proprie competenze professionali e ad aggiornarle. Per quanto riguarda l'area emotivo-relazionale, se ne occuperà in prima battuta l'Associazione Formamentis di Ascoli. Creeranno degli sportelli utili ai ragazzi per parlare di emozioni, di comunicazione efficace, di life skill, soft skill. Tutti argomenti che possono creare ed andare ad implementare il proprio benessere personale e sociale. Per quanto riguarda l'ultima area, è quella di tutte le attività creative e dell'espressività. Se ne occuperanno le associazioni Delta, Centro Giovani e Teatro delle Foglie per formare al teatro. Quindi si parlerà di teatro, di dizione, di interpretazione. Tutti questi laboratori, ricordo, sono gratuiti. Sono rivolte ai giovani da 16 ai 35 anni. Diciamo che le attività dovrebbero durare fino a fine settembre. Allora, Elaria, per chi ci sta ascoltando ed è interessato, come fa per iscriversi a questi corsi? Per iscriversi ai corsi basta mandare una mail, ad esempio, se siete interessati all'area del lavorativa, ad amministrazione, chiocciolalella2001.it, se siete interessati all'area emozionale, a formamentisapchiocciolagmail.com, se siete interessati al teatro, infine, basta una mail a advdelta-cooperativemarche.it. Allora, in merito alle varie attività, possiamo dare qualche informazione in più? Su, un po', lei ci ha detto, verranno organizzati dei gruppi? Sì, per noi è molto importante creare dei laboratori di gruppo perché, diciamo, è l'esperienza che permette un confronto, una discussione, spunti di riflessione tra i ragazzi. Quindi abbiamo pensato, soprattutto nell'area del lavoro, a creare dei gruppi dove si parlerà di come promuovere se stessi in ambito lavorativo, quali sono le professioni del futuro, come mi devo comportare in un colloquio di lavoro. Quindi tutti argomenti assolutamente attuali e importantissimi ai fini del primo impiego, della ricerca del primo impiego. Anche nell'ambito emotivo verranno trattati argomenti in gruppo, soprattutto grazie a laboratori creativi che aiuteranno a riconoscere e a parlare delle proprie emozioni. In conclusione, Ilaria, c'è un sito che possiamo dare per trovare tutte queste informazioni che ci ha appena illustrato? Trovate tutto sul nostro sito www.lella2001.it, poi potete seguire i nostri social dove cerchiamo di aggiornare con tutte le nostre iniziative in corso. Grazie allora Ilaria Capponi della cooperativa Lella 2001, io vi auguro buon proseguimento su Radio Azzurra.